Falso in prospetto è con questa accusa che PM del Pool che indaga sul crack di Banca Etruria guidato dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi potrebbe a breve chiedere il rinvio a giudizio per gli ex vertici dell'Istituto di Credito Aretino. Per l'accusa infatti alla Consob e quindi di conseguenza al pubblico degli investitori non sarebbero stati comunicati nella primavera 2013 tutti i dati sulla reale situazione di Banca Etruria. Il falso in prospetto è relativo a due emissioni, quelle dell'estate e dell'autunno 2013, delle famigerate obbligazioni subordinate e poi diventate carta a straccia il 22 novembre 2015 a seguito del decreto salvabanche. In tutto 130 milioni di bonda subordinati collocati presso un pubblico indistinto. I PM adesso sarebbero dunque cercando di accertare se al momento della sottoscrizione dei titoli i risparmiatori furono correttamente informati dall'ormai ex Banca Etruria sulla reale situazione finanziaria dell'Istituto se nel prospetto furono messe le informazioni dettagliate in merito alla situazione aziendale. Il reato di falso in prospetto è uno di quelli non contemplati dal codice penale ma bensì dall'articolo 173 del testo unico della finanza con pena da 1 a 5 anni.